buongiorno allora mi sto preparando mancano solo i capelli che sono tutti in aria perché come leggete dal titolo andiamo a fare la seconda dose sempre fra pfizer e ovviamente vi racconterò la mia esperienza anche sulla seconda dose per cui guardate tutto il video questo blog oggi è mercoledì 22 settembre e vedo se riesco allora questo blog interiore dovete vedere giovedì ma non credo che riuscirò a montarlo entro stasera per cui credo che lo vedete sabato e io massimo vi aggiornerò in tre giorni per vedere se per vedere cosa succede se sto bene se ho avuto qualcosa eccetera per cui adesso andiamo spero che questo blog durerà poco non come l'altro che è durato tanto però questa volta non mi metto a parlare per cui sono un po agitata e spero che non mi fa nessun effetto per cui incrociamo le dita e speriamo in teoria sono pronta porto i capelli va bene ci vediamo dopo perché se no questo video dura l'eternità solo per fare un bacino a l'appuntamento non ce l'abbiamo le 10 50 per cui prima delle 10 50 dobbiamo essere lì credo che fino alle 11 e mezza saremo lì sperando che non mi sento male o anche il mio ragazzo come l'altra volta se non avete visto il primo blog del primo vaccino andatelo a vedere che è importante per quelli che ancora non si sono vaccinati per cui ci vediamo dopo io vado a fare colazione e tanto ce la faccio perché tanto devo andare a como nel vecchio diciamo ospedale noi lo chiamiamo vecchia sant'anna ovviamente è l'ospedale vecchio e andiamo lì a fare i vaccini nell'ospedale vecchio che si chiama sant'anna dove dove si trova come un poche parole ci vogliono 15 minuti più o meno ci vediamo lì ciao 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 io Ok, adesso è mezzogiorno, adesso mi hanno dato questo qua, praticamente. Per il momento ho un po' di nausea, ma credo che sarà l'agitazione perché prima che mi facevo la puntura ero agitatissima, quindi mi tremavo la mano, per cui ero molto più agitata della prima dose. Adesso vediamo come procede, però per il momento va tutto bene, non ho niente. In teoria stasera volevo uscire e oggi pomeriggio volevo andare in un negozio, per cui io spero di riuscire a andare. Vediamo, io vi aggiorno, grazie che hai ruttato comunque. Comunque vi aggiorno dopo. Adesso vediamo cosa mangiare. Sono un po' agitata, sì. Sono un po' agitata, ma almeno la seconda l'abbiamo fatta e non ci pensiamo più. C'era tanta gente, volevo riprendere, solo che in teoria non volevo inquadrare le persone, per cui ho ripreso proprio veloce veloce i due secondi di clip che non potevo riprendere. Comunque siamo stati, questa volta abbiamo aspettato 15 minuti, 10-15 minuti, perché poi lui l'hanno messo sdraiato. Gli hanno fatto il vaccino ma sdraiato, per cui adesso lui non ha avuto niente e sta bene. Io sono un po' agitata ancora, forse per dopo, non lo so, perché in teoria devo pensare 24 ore per far sì che riesce a stare meglio, diciamo. Per cui dobbiamo aspettare 24 ore. Vediamo. Comunque vi tengo aggiornati e vi farò sapere. Intanto vedo cosa mangiare. Che figata sta volando. C'è quello che ho io. Quello sì che ho io. Io ho preso due cose. Ma quanto costo? Non c'è pezzo. Quello è grandissimo. Ma siamo a Villa Guardia. È un nuovo negozio di risparmio casa. È già tutto per la casa. Uh, due euro, un euro. Un euro. Ma vediamo se riesco a trovare quello che va io. Allora, sono le quattro, quasi le cinque. Allora, per il momento, sto bene. Inizia a farmi male il braccio, piano piano. Per cui, credo che, secondo me, stasera mi farà male. Però, vabbè. L'importante è star lì. Siamo andati in giro. Siamo andati al Bennett. Abbiamo comprato pure il telefono di casa. Che mi si è rotto. Comunque, vabbè. Quelle cose lì non è che ve le faccio vedere. Perché è inutile. Voglio farvi vedere cosa ho comprato. Al risparmio. Questo sacchettino. Al risparmio casa. Tre cose, perché alla fine non volevo spendere chissà cosa. Per cui, ho preso la borraccia. Questa qua, per mio padre. Perché volevo la borraccia e gli ho preso la borraccia a mio padre. Diciamo che è figa, perché è verde, con la scritta fatta così. E vabbè, gli ho preso la borraccia. E adesso, che poi gliela do. Poi, ho preso questi. Che in teoria l'ha preso il mio ragazzo, perché gli servivano. I coton fioc. Questi qua. E poi, dato che lo volevo provare. Costava poco. Ho preso questo qua, il sapone. Mane viso al mango e papaya. L'odore è buonissimo. C'era anche il cocco, la vaniglia. Ce ne erano tanti. Ma ho voluto provare questo al mango, perché mi ispirava tanto. Per cui, ho preso questo qua. Che costava 99 centesimi. La borraccia. 9,90 euro. E i coton fioc, 79 centesimi. In totale, 11,83 euro. Non ho preso tanto, perché appunto, preferisco risparmiare e non comprare cose così. Ho preso le cose che volevo provare, le cose utili. Tutto qua. Però, sono andata a vedere com'era il negozio. Ho visto che non è male. È ottimo per... Per la casa, eccetera. Per cui, quando mi servirà, andrò lì a comprare. E niente, siamo andati in questo negozio. A prescindere che prima sono andata a fare un colloquio di lavoro. Per cui, vabbè, non ho ripreso tutto. Perché, giustamente, le cose sono fondamentali. Poi, questo video, in teoria, è solo per il vaccino. E invece, si sta trasformando per altre cose. Comunque, a parte questo, non ho fatto la clip dove ero a Montana o al Bennett. Perché tanto era inutile. E niente, per cui, siamo andata a fare il Bennett. Ormai, sono così le 5. Sono uscita di casa che erano le 2. No, prima delle 2. Adesso sono arrivata. Per cui, il tempo di stare mezza giornata, 2-3 ore fuori, e basta. Comunque, situazione. Vascino, che adesso me lo tiro via. Per il momento, un po' male al braccio. Perché, appena lo faccio così, mi fa male. Per cui, però, vabbè, vi aggiornerò piano piano. Anche stasera o domani mattina, vediamo. Detto questo, vado a cucinare, perché devo fare il polpettone di patate. Questa sera, e poi, se usciamo, usciamo. Usciamo e facciamo qualche giretto in giro. Vediamo, dipende tutto dal braccio. Per cui, ci vediamo dopo, quando ho finito di cucinare. Che meglio. Allora, sono le 9. Io sono già in bagno, perché mi devo struccare. Comunque, sono le 9. Allora, il braccio riesco a muoverlo, perché fino a qua riesco a alzarlo. Poco poco, poco poco male al braccio. Per il momento. E, dato che, devo aspettare fino a domani. Io, però, domani devo andare, ovviamente, a lavorare. Per cui... Ok, spero che il cellulare non cada. Bre. Allora, a prescindere che adesso mi tiro via il cellulato, perché... Cioè, l'ultimo, l'ho tenuto su, su... Mi ho lasciato un piccolo pallino. Comunque, a parte questo, adesso mi strucco. Allora, in teoria volevo uscire. Solo che... Domani mi dovete svegliare presto, per andare a lavorare. Per cui, ho cambiato idea. E non esco. Uscirò la prossima volta, il prossimo mercoledì. Comunque, detto questo... Cioè, voi non potete capire cosa sta succedendo in questi giorni. Da quando ho fatto la prima dose e adesso ho fatto la seconda dose... Cioè, non ci credo nemmeno io. Ma ogni giorno saltano delle notizie, ovviamente, sulla mia vita, proprio belle, che non mi sono mai successe in tutta la mia vita. Per cui, non lo so se... Perché il vaccino mi sta portando fortuna, non lo so. Ma giuro, da quando ho fatto la prima dose e adesso la seconda dose, questo vaccino mi sta portando veramente fortuna. Io ve lo dico, ma non perché... Cioè, io non sto mentendo. Però, queste belle notizie ve le dirò tra un mesetto. Perché, ovviamente, queste due cose succedono dopo... Fino di ottobre. Non vi posso svelare niente. Sto già dando qualche piccolo indizio di tre cose che mi sono successe veramente... Che è una bomba, giuro. Non mi sono mai successe così tante notizie in pochi mesi. Che è una cosa assurda. Vi dirò, ovviamente, le belle notizie che riguarderanno alla mia vita. Per cui, hai cambiamento anche su quello che registrerò dal prossimo anno che verrà. Per cui, non vi svelo niente. Ve lo dirò tra un mesetto, sperando di avere tutto. Ve lo dirò tra un mesetto. Sono due cose veramente belle per me. E vorrei poi condividere con voi quello che è successo. Per cui, non vi sto dicendo... Cioè, non lo sto dicendo opposta. È vero. È vera questa cosa. Per cui... A parte questo, che poi ve lo dirò più avanti. Mi raccomando. I commenti, vabbè, i commenti negativi verranno cancellati. Me ne sbatto. Perché non voglio stare tutte le volte a ripetere le stesse cose. Se non avete visto di quello che sto dicendo adesso nel blog del vaccino della prima dose. Andatelo a vedere. Commenti negativi. Cioè, non rispondo proprio. Cancello. Blocco. Canale. Tutto. Blocco tutti. Mi dispiace, ma... Sono stufa. Per cui, io la penso così. Voi la potete pensare come volete. Mi raccomando, commenti buoni. Non... Eh, ma io... Come nell'altro vlog del vaccino. Eh, ma io non mi vaccino. Ma tu sei pazzo. Cioè. Commenti assurdi. Ma proprio assurdi. Cioè. Io... Faccio la mia decisione. Se volete fare questa decisione di vaccinarvi. Bene. Sennò, cavoli vostri. Io ve lo dico. Io vi consiglio davvero di vaccinarvi. Per cui... Anzi. E secondo me il vaccino porta anche fortuna. Io ve lo dico. Perché a me ha portato veramente fortuna. Dopo ho fatto due dosi. E chissà poi la terza. Comunque. A parte questo che non è uno scherzo. Vaccinatevi. Ve lo... Ve lo dico io che... Allora. Io vi dico la mia esperienza. Quando sono entrata dentro per fare la vaccinazione. Tremavo. Avevo la mano così. Tremavo. Cioè la mano tremava. Io tremavo. Avevo paura. Infatti mi sono diciamo un po' agitata tanto. Per cui poi vabbè la... Quella che mi ha fatto il vaccino giustamente mi ha aiutato. Mi ha tranquillizzato eccetera. Però è andato tutto bene. Infatti adesso è perfetto. Cioè non ho niente. Vedremo poi domani. Appunto di domani. Non so se continuerò domani il vlog. Adesso vediamo. Perché sono le nove. E' tardi. Voglio struccarmi. Andare a letto. Riposare. Perché poi domani mi devo svegliare. Appunto. Per fare altre cose. Per cui vedrò se continuare il vlog. Oppure vi saluterò qui. Ma di sicuro vi saluterò qua. Chi veramente si preoccupa per me. Che ci tiene tanto. Dato che mi seguono... Quelli che mi seguono veramente sul mio canale. E si preoccupano davvero per me. Ovviamente mi scrivete in privato. Su Instagram. Che io vi rispondo sempre. Vi farò sapere poi. Chi è interessato. Se sono stata bene. Se ho albuto la febbre. Ma credo che ve lo dirò anche su Instagram. In poche parole. Tutto qua. Comunque davvero vaccinatevi. Perché tanto poi il 15 d'ottobre. Cambiano le regole. Chi lavora specialmente. E' obbligato a avere il Green Pass. Dal 15 ottobre. Per cui mi raccomando. Vaccinatevi. Non voglio sentire commenti. Io non mi vaccino. Perché io non mi fido. Sono morte persone. Morta... Questa è morta... Cioè... Tutte le cagate che vedete sul TG. E altre robe varie. Non sono vere di quello che vi dicono. Non c'è solo il coronavirus. Che fa morire le persone. Ci sono altre malattie. Per cui non c'è solo il coronavirus. Per l'amor di Dio. C'è chi è morto veramente per il vaccino. C'è chi è morto per il covid. Io non sto dicendo ovviamente che non si può morire. Io sto dicendo fate una cosa davvero giusta. Per la vostra salute. E per quella degli altri. Io l'ho fatta. Fatelo anche voi. All'inizio anch'io dicevo. No, io non mi vaccino. Perché non mi fido. Perché muoio. Eccetera. Da quando piano piano le persone mi hanno fatto cambiare idea. In senso quelle che mi stanno vicino. Quelle che abitano con me. E mi hanno fatto cambiare idea sul vaccino. Vi assicuro che da quando mi sono vaccinata. E non sto veramente scherzando. Perché poi ve lo dirò a fine ottobre. Vi dirò tra un mese cosa è successo. Vi dirò che davvero il vaccino mi ha portato talmente fortuna. Che è una bomba. Giuro. Per cui... Vaccinatevi. Io vi dico solo questo. Mi sono delungata. 8 minuti anche fin troppo che ho parlato. Non dovevo parlare. In questo vlog. Invece. Come sempre. Parlo. In tutti i video. Devo starmi nezzitta. Comunque. A parte gli scherzi. Non so se poi farò un video sui duemila iscritti. Perché ho visto che siamo arrivati a duemila iscritti. Per cui non so se farò un video parte su quello. Però... Poi su altre cose vabbè. Ne parleremo in un prossimo video. Non in questo. Niente. Credo che vi ho detto tutto. Vabbè. Le clip le avete viste. Per cui. Non c'è niente da dire. Io. Fino a quando ho fatto il vaccino. Ad adesso. Io sto bene. Come vedete. Muovo il braccio. Fa leggermente un po' male. Vabbè. Vedrò poi domani. Come è la situazione. Spero. Meglio. Per cui ricordatevi. Commenti cattivi. Commenti che odio ricevere. Con cattività. Invece di... Scrivete un commento. Normale. Gentile. No. Dato che non mi conoscete. Almeno per quelli che non mi hanno visto dal vivo. E non mi conoscono. Non... Fate così tanto. Non scrivete tanti commenti negativi. Se non conoscete una persona. O specialmente se vi dice una cosa. Non è che se qualcuno. Ad esempio. Io. Vi dico. Vaccinatevi. Allora dovete scrivere. Cattiveri. Tutte le altre cose. Cioè. Io ve lo dico. Poi se volete farlo. Bene. E la vostra salute. Sono cavoli vostre. Io ve lo dico. Poi. Fate quello che volete. Io ho fatto la mia scelta. Ci sono stati cambiamenti. E ci saranno tanti altri cambiamenti. Che porteranno. Ovviamente. Nella mia vita. Grazie a queste cose. Non so se è un miracolo. Non lo so. Però. Vabbè. Su tutte le altre belle notizie. Vi farò sapere. Appunto. Tra un mesetto. Sperando che. Si sistemeranno. In poche parole. Non vi dico altro. Perché spoilerò dopo. Troppo. Detto questo. Io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vlog. Non sia durato l'eternità. E concludo col vlog. Perché non so neanche se domani riuscirò a vloggare. Anche perché domani. Devo montare immediatamente il video. Per far sì che poi lo vedete. Su per domani. Ma non credo che lo vedete domani. Non lo so. Vedrò. Comunque. Se riesco. Ve lo metterò su giovedì. Se no. Lo vedete per sabato. Io dico così. Ma poi alla fine voi. Cioè. Dovete ancora vederlo. Vabbè. Detto questo. Noi ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando. Commentino qua sotto. E voglio che mi scrivete. Io mi sono vaccinata. Ho fatto la prima. La seconda. Scrivetemelo sotto. Io sono curiosa. Di sapere se vi siete vaccinati. Tranne i commenti negativi. Sempre. Che. Siano. Commenti giusti. Li posso tenere. Ma commenti negativi. Brutti. Che non mi piacciono. O si cancellano. O si blocca. La persona interessata. Detto questo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.